carissimi ascoltatori e carissimi aspettatori buonasera o buongiorno o buonanotte per chi ci ascolterà in orari differenti siamo arrivati alla ventiduesima puntata dedicata alla seconda guerra punica e ormai intravediamo la fine di questo conflitto ne approfitto per comunicare a tutti che a breve trasferirò tutte le puntate su youtube che mi garantisce una migliore copertura e anche più spazi insomma per conservare tutto comunque sia se avete lasciato i vostri commenti su speaker le vostre risposte non vi preoccupate perché cercherò di inserire nei commenti alle puntate man mano che le trasferisco le singole le vostre singole risposte in modo che non si perdano quindi comunque sia dove in avanti speaker diverrà il posto perfetto per le dirette mentre chi vuole seguirmi indifferita consiglio di passare a youtube tanto il canale ha il mio nome marco mengoli nel caso qualcuno ci senta per una volta non penso comunque ricordo che il podcast si chiama aspettando il giannistro nero perché il giannistro nero è la trasmissione principale del gruppo facebook casus belli board war game che appunto parla di war game mentre noi qui con aspettando il giannistro parliamo un po più di tematiche storiche e di giochi non esattamente legati al mondo del board war game se non di sfuggita siamo alla 22esima puntata stiamo seguendo il testo di nicola zotti zama che cerca di di riassumere gli ultimi anni della guerra della seconda guerra punica con un sistema di gioco test in cui regolarmente ricevete delle situazioni strategiche che hanno dovuto vivere i comandanti dell'epoca scipione o annibale e dovete dare una risposta sommando tutte le risposte tutte le risposte delle varie puntate alla fine avrete un profilo esattamente come ogni test psicologico che si rispecchia che vi dice che tipo di generale sareste stato saluto fabio che è in diretta anche oggi grazie fabio che sei sempre con noi e vado a cominciare la puntata avevamo lasciato scipione che si era lanciato verso il centro dell'africa verso l'interno dell'africa e va devastato le campagne in mano alla nobiltà cartaginese e la nobiltà cartaginese va pregato annibale di fare qualcosa per porre fine alle scorrerie di questo romano invasore annibale era quindi scelto di inseguirlo direttamente di puntare direttamente su di lui in modo da mettergli pressione e annibale quindi arriva fino a zama località appunto di vera nota per l'ultima battaglia anche se in realtà a dire la tutta l'ultima battaglia si combatte dalle parti naragara un luogo che per me è praticamente impossibile pronunciare visto i miei problemi di consonanti ma comunque sia zama è la città è la città più importante che stava in zona annibale aveva qualche preoccupazione nel senso che se ricordate annibale aveva ricevuto un supporto di cavalleria numida mentre la cavalleria numida alleata di scipione insieme a massinissa che ha diventato da poco il legittimo re dei numidi era impegnata a combattere contro vermina che era il figlio del re precedente si face quindi praticamente annibale aspetterebbe che vermina lo raggiungesse per potenziare la sua cavalleria scipione aspetterebbe che massinissa lo raggiungesse per rinforzare la sua cavalleria fra l'altro scipione ha prestato circa 5000 uomini a massinissa quindi una quantità particolarmente importante quindi scipione attendeva il ritorno di massinissa con forse ancora più ansia ed entrambi non sapevano quali fossero le condizioni di questi due annibale non sapeva dove fosse massinissa e dove fosse vermina e scipione uguale nel frattempo annibale quindi cerca di prendere informazioni su scipione mandando le spie spie che vengono catturate e a questo punto noi ci aspetteremo siamo nel terzo secolo avanti cristo e queste spie vengono torturate in malo modo vengono uccise gli rimandino la testa delle spie come poi fondamentalmente i romani avevano già fatto da annibale con la testa del fratello dopo la battaglia del metauro e invece no scipione fa un'altra cosa che non è una novità perché è già stata fatta ma che comunque dà sempre una certa impressione quando ci pensiamo scipione prende le spie si fa portare le spie e praticamente gli fa fare un giro turistico cioè gli fa vedere esattamente tutto quello che c'era dentro l'accampamento come fossero messi quanti uomini ci fossero alla fine gli chiede avete capito tutto benissimo gli da una scorta e gli fa riaccompagnare da annibale non è ben chiaro come l'abbia presa annibale la cosa anche perché per quanto riguarda questa questa parte ci sono alcuni dubbi perché i due cronachisti che ci parlano di questo periodo brutarco titolivio sono danno descrizioni opposte di un aspetto fondamentale cioè cosa avviene avviene che massinissa nel frattempo è arrivato da scipione solo che polibio ci dice praticamente che scipione fa vedere tutto l'accampamento e rimanda le spie da annibale poco prima arrivo di massinissa praticamente per comunicargli guarda che massinissa non è ancora arrivato e provare a ingannarlo in questo modo titolivio ci dice invece che le spie vedono anche l'arrivo di massinissa quindi scipione gli dice guardate che noi adesso abbiamo anche la cavalleria andate a dirlo al vostro comandante in ogni caso chiunque due abbia ragione annibale rimane sorpreso appunto della reazione di scipione che gli ha fatto fare il giro turistico alle sue spie forse rimane anche un poco irritato ma in ogni caso sappiamo che annibale a quel punto chiede di poter avere un colloquio con scipione e a questo punto però scipione deve scegliere come reagire a questa richiesta di annibale e passiamo quindi alla domanda di oggi invito chi è indifferita ma anche chi è indiretta se riesce ad andare a vedere la piantina riassuntiva che è la copertina di questa puntata allora cosa può fare scipione per cercare di riprendere l'iniziativa che in questo momento è in mano ad annibale risposta a retrocede immediatamente per impedire che le proprie linee di comunicazione siano tagliate e cercando a quel punto di tagliare invece quelle di annibale ricordiamo che le basi annibale è la base adumentum a oriente e andando verso nord scipione gli togliere gli taglierebbe almeno le comunicazioni verso cartagine verso nord c'è la base invece di scipione che è utica che è sempre sotto assedio ma ormai ci interessa il giusto quindi a tagliare le linee di annibale muovendosi verso nord b muovere decisamente contro annibale per affrontarlo in combattimento approfittando della superiorità che gli dà l'arrivo la cavalliera di massinissa superiorità quanto meno per quanto riguarda il numero dei cavalieri come il numero di fanti era ancora probabilmente superiore a annibale c avanzare ancora verso l'interno dell'africa costringendo annibale a seguirlo per allontanarlo dalle sue basi e cercando un terreno di battaglia ideale d avvicinarsi senza fretta annibale intraprendendo con lui farsi colloqui di pace in modo che questi non sospetti che massinissa sia già arrivato l'autore del testo che sto seguendo segue l'ipotesi polibiana quindi annibale non sa nulla ripeto le proposte a si sposta velocemente verso nord torna indietro per tagliare le linee di comunicazione di annibale e riavvicinarsi alla propria base b si muove direttamente contro annibale perché appena arrivato massinissa per sfruttare il suo arrivo in battaglia c avanza ancora verso l'interno dell'africa per costringere annibale a seguirlo e cerca un terreno di battaglia ideale d si avvicina con calma verso annibale fa farsi colloqui di pace in modo che questi non sospetti che massinissa è arrivato spero che avete tutti quanti risposto e andiamo a dare le risposte allora intanto posso dirvi che scipione che raramente sbaglia sceglie la c quindi mi sei venuto dietro bene continuo a venirmi dietro allontaniamoci entrambi dalle nostre basi quindi scipione sceglie la c per mantenere l'iniziativa in tutti gli altri casi avrebbe fatto le mosse che avrebbero lasciato l'iniziativa ad annibale o per la scelta il campo di battaglia o per la scelta se praticamente accettare o meno la sua la sua mossa invece in questo modo obbliga praticamente annibale a inseguirlo infatti chi ha risposto c prende quattro punti e una stellina b come dicevo prima lascia ad annibale la scelta del campo di battaglia quindi chi ha risposto b prende due punti e una picca d è un po' sottovalutare l'intelligenza enorme di annibale quindi d prende un punto la a praticamente è un controsenso perché annulli tutto quello che hai fatto fino a questo momento almeno dai campi magni in poi quindi chi ha risposto la a prende zero punti e un fiore quindi ripeto i punti chi ha risposto a zero punti e un fiore chi ha risposto b due punti e una picca chi ha risposto c quattro punti e una stellina chi ha risposto d un punto molto bene e quindi si sposta verso l'interno e a questo punto e arriva appunto nei pressi di narragara appunto per me ribadisco imponunciabile lì dice ad annibale che effettivamente lì i colloqui si possono iniziare con questa aspettando la risposta di annibale che sarà la prossima domanda che vi farò io vi saluto vi do l'appuntamento a lunedì prossimo perché domani purtroppo non potrò esserci e sabato voi come sapete partecipo a lega non io mio figlio a lega di pokemon di aprilia come sa chi ascolta il giannizzeronero ringrazio chi mi sta seguendo ormai da più di un mese e gli do una buona notizia per martedì massimo mercoledì prossimo concluderemo finalmente la seconda guerra punica e voi potete sapere che tipo di generale siete per chi ci ascolta indifferita anche lì grazie per essere arrivato fino a qui e non ti preoccupare ancora pochissime puntate e finalmente potremo concludere il nostro test ringrazio chi era in diretta fabio max e diego ciao a tutti continuate pure usare spreaker per il momento per segnare i vostri punti ma trovate tutto quanto anche su youtube buona serata a tutti l'ombra e il giannizzeronero si fa sempre più imperiosa hai ragione fabio era ora che finisse questa storia ma la finiremo a breve e cosa vuol dire max che devi segnare tutti i punti devi sommare tutti i punti quello sicuramente non lo so speriamo se vediamo se max mi mi risponde oggi parlo un po col pubblico come fa il giannizzeron chi ci segue indifferita può chiudere qui perché sono comunicazioni interne con le dirette beh no non importa che li segni su carta max ce li hai sì forse fai meglio a fare i conti comunque li hai segnati li trovi in tutti quanti i commenti dei vari spreaker passati però sì ti conviene segnare la somma complessiva dei punti entro martedì e il numero di fiori stelline e picche per poter appunto finalmente avere il tuo punteggio finale e se no visto che comunque sto spostando tutto quanto su youtube due conti a voi che siete sempre con noi che ci avete dato le risposte in diretta li posso fare anch'io d'accordo ringrazio ancora tutti max mi fa una domanda difficilissima da che puntata inizia il gioco max te lo dico la prossima volta promesso comunque sia sono ancora tutte quante su spreaker saluto tutti e ci sentiamo lunedì